Adesso! Resta qui! Se mi succede qualcosa, sta vicino a papà! Almeno Steven è salvo! Ciao ragazzi! Steven! No! Hai disubbidito! Che cosa ci fai qui? Vattene via! Ma... È troppo tardi! Resta dietro di noi! E' troppo tardi! Ah! Tutto qui. Jasper! Interferiscono con il mio lavoro! Un'altra perdita del mio prezioso tempo. Dei, fatti vedere. Lapis! Questa è la loro base? Sì. Dovete andarvene immediatamente! Sì, fuori dai piedi! Non è un pianeta sotto il controllo delle gemme. Non avete avvistato Rose Quartz? Oh, che peccato. Volevo incontrarla. L'avrei sconfitta e schiacciata come un moscerino. E questo sarebbe il suo esercito. Una perla opaca e difettosa, una bestiolina esagitata e una capetta spudorata. E quello chi sarebbe? Ha detto che il suo nome è Steven. È soltanto un umano. Non sarà una minaccia. No, non è uno di loro. Lo vedo che è un misero umano. Peridot, non hai bisogno di me. Distruggile con la navicella. Va bene. Steven! Vattene via da qui! No! Non ti lascerò rischiare la vita! Questo è il mio pianeta! E voi siete la mia famiglia! Buonanotte! Anch'io! Anch'io sono una gemma di cristallo! Quello scudo! Quel simbolo!